Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Cosa è successo e sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 13 marzo? La finale del Grande Fratello Vip, che a settembre giustamente sembrava così lontana, sta per arrivare. E il 3 aprile, dopo mesi e mesi di permanenza, verrà giudicato il vincitore. O la vincitrice, di questa edizione, la più lunga della storia del reality. Mentre Oriana, che dalla Spagna ha conquistato con la sua spontaneità e allegria gli italiani, può stare serena perché ha già un posto per la finale, gli altri concorrenti devono combattere. Cosa è successo nella puntata di lunedì 13 marzo? Chi dei Vippone al televoto è stato eliminato definitivamente? Dopo l'eliminazione di Davide Donadei e la squalifica di Edoardo Donnamaria, con il provvedimento di Alfonso Signorini che ha scombussolato ancora di più gli equilibri della casa. Ben quattro concorrenti, tutti protagonisti a loro modo, sono finiti al televoto giovedì scorso. Stiamo parlando di Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati, di Daniele Dal Moro. Che continua a fare tira e molla con Oriana, di Jaele, che per un periodo si è fatta conoscere per la sua idea di amore libero e di Nikita Pelizzon. Una delle concorrenti più amate fuori dalla casa. E, forse, un po' meno dai suoi coinquilini. Chi di loro ha dovuto lasciare, e definitivamente, il gioco, ora che la finale si avvicina? Ancora troppo presto per dirlo, ma stando i primissimi sondaggi pare che a rischio ci sia Andrea Maestrelli. Lui dovrà lasciare la casa del GF Vip. Alla fine sì, è stato proprio lui a dover abbandonare il gioco. Tuttavia, arrivato in studio, Maestrelli ha pescato il biglietto di ritorno. Per lui pertanto l'eliminazione è stata soltanto temporanea. Non può esistere puntata del GF Vip senza le nomination, soprattutto ora che il gioco si fa duro. Chi dei concorrenti è finito dritto al televoto? Il pubblico dovrà votare per l'eliminazione o per eleggere il secondo finalista. La prossima puntata del Grande Fratello Vip. Lo ricordiamo, andrà in onda giovedì 16 marzo, poi da lunedì 20 litro appuntamenti sarà solo una volta a settimana. E così fino alla finale del 3 aprile. Ecco intanto i nominati di questa 41esima puntata. Attenzione però, il televoto non sarà eliminatorio, i Vip non nessuna conoscenza, bensì servirà a decretare il secondo finalista di questa edizione. Appuntamento a giovedì allora per saperne di più. La prossima puntata del GF Vip. La prossima puntata del GF Vip.